Ragazzi devo tornare sul palco, non ce la faccio. Cosa succederà il 23 di attore, il giorno dopo? Che andremo a trattare? Prima ci vuole un grande risultato, un risultato che deve essere plebiscitario, una grande affluenza alle urne sapendo che non è il referendum della politica ma dei veneti e delle venite. Quindi chiederemo l'applicazione da subito dell'articolo 116 e successivi della Costituzione che prevedono 22 competenze per le regioni. Tutte 22 insieme? Sì, certo. Ragazzi siamo andati sul palco in Cuglia.